Ciao a tutti, come aumentare l'autostima? In questo video voglio spiegarti come aumentare l'autostima, come sviluppare l'autostima, come migliorare l'autostima. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale se ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema. Allora il termine autostima deriva proprio dalla parola stima, cioè dall'apprezzamento, diciamo, di se stessi e auto, autoapprezzamento di se stessi. Ovviamente il livello di autostima è come noi percepiamo noi stessi. Quindi il giudizio espresso da se stessi verso se stessi. È molto importante che questo giudizio sia buono. Noi possiamo diffidare di tutti ma non possiamo diffidare di noi stessi. Chi ha una bassa autostima vive il timore della perdita, la paura dell'abbandono, il sospetto, diciamo, chi ha una bassa autostima si valuta male, quindi si valuta l'uscito difettoso dalla fabbrica, pensa di non avere più possibilità di riuscire a entrare in relazione, rapporto empatico positivo con gli altri, pensa di non valere niente e inizia ad avere delle credenze negative. Inizia a credere di non riuscire a fare una cosa, a credere di non riuscire a fare un'altra. È perennemente insicuro, non è capace di contare solo su se stesso, manifesta paura, diciamo, ha una scarsa fiducia nella propria persona. Ecco, sono tutte caratteristiche che rimandano, diciamo, a una bassa autostima. Nessuno nasce, diciamo, con la giusta dose di autostima. Questo perché, diciamo, oltre al lavoro che possiamo fare su noi stessi, dobbiamo imparare a credere nelle nostre capacità. Questo alimenta fortemente la nostra autostima. Quindi dobbiamo imparare, diciamo, a capire che l'autostima è un fattore dinamico, che possiamo migliorarla, possiamo aumentarla. E non è che nasciamo con un livello di autostima e stop, se è bassa non c'è niente da fare. No, noi possiamo migliorarla, possiamo acquisire una nuova visione di noi stessi e questo ci porterà dei risultati migliori nella nostra vita, migliorerà i risultati e migliorando i risultati che otteneremo potremo migliorare ancora di più noi stessi. La sana autostima, diciamo, è basata su una profonda conoscenza di noi stessi, ci aiuta a migliorare, ci aiuta a darci obiettivi che possono essere obiettivi stimolanti. Quindi come si aumenta, diciamo? Beh, intanto la prima cosa è imparare ad accettarsi, cioè a non avere dei pensieri negativi. È il pensiero che determina tutto. Se noi iniziamo a pensare male di noi stessi, non riusciremo a vivere esperienze di felicità, non riusciremo a vivere esperienze di affetto, ma saremo sempre bloccati in situazioni estremamente negative. Quindi la cosa importante invece è vivere una situazione positiva. Dobbiamo imparare, diciamo, a trasformare, diciamo così, l'amore per se stessi in obiettivi. Quindi gli obiettivi devono essere quelli che vanno a confermare che noi ci amiamo. Quindi questo è un punto importante. Per fare questo dobbiamo superare le credenze negative di noi stessi, non tenerci aggrappati ai pensieri positivi, ma lasciarli andare. Vedere se arriva un pensiero negativo, vedere un'emozione e lasciarla andare. Dobbiamo eliminare i filtri negativi che ci coinvolgono. Per eliminare i filtri negativi dobbiamo, diciamo, essere felici da questo punto di vista. Non dobbiamo utilizzare delle parole negative verso noi stessi, soprattutto dobbiamo evitare di usare il verbo essere. Il verbo essere, io sono un cretino, io sono uno stupido, sono un fallito. Il verbo essere cristallizza. Diciamo, se qualcosa non va, è meglio usare il verbo avere, oppure altri verbi. Io ho fatto questa cosa, che non mi ha dato dei risultati, ne farò un altro. Quindi il primo punto è che non esistono fallimenti, ma esistono soltanto risultati. Quindi questo dobbiamo iniziare a capirlo. Già capire questo ci darà dei vantaggi, insomma, per intensificare l'amore per noi stessi. Dobbiamo imparare a darci delle emozioni quotidianamente, fare un, come dire, come possiamo dire, darci uno spuntino emotivo quotidiano, elencare le qualità positive e rifletterci sopra quotidianamente. Quindi questo è importante. Dobbiamo sviluppare, diciamo, un piano che ci consente di gestire le nostre emozioni. Se non ci dà le emozioni, siamo finiti. Quindi tutte queste, diciamo, caratteristiche possiamo svilupparle anche attraverso l'autoipnosi positiva volontaria. Cioè immettere, quando viviamo in uno stato di tensione, delle emozioni positive. Mettere dentro di noi delle situazioni positive. Quindi questo è molto importante. Se noi riusciamo a fare questo, riusciamo a raggiungere dei risultati molto importanti nella nostra vita. Ripetiamo delle affermazioni positive, ci aiuta ad ottenere risultati che altrimenti non avremmo potuto neanche raggiungere fondamentalmente. Quindi comprendere l'amore per se stessi e quindi riconoscerlo è fondamentale. Quindi imparare a parlare di noi stessi direi che è il punto fondamentale, la cosa fondamentale che noi possiamo fare, insomma. Quindi in questo modo vedrai che l'autostima aumenta. Poi un'altra cosa che puoi fare è guardarti allo specchio. Guardati allo specchio e trova anche da un punto di vista estetico, cerca di migliorarti, cerca di fare qualcosa per... Intanto vedi i tuoi punti di forza, cerca di valorizzarti, cerca di guardare che cosa potresti fare per migliorare sempre. Datti l'obiettivo, non importa, diciamo, non fare confronti con gli altri, confrontati con se stesso. Fai ogni giorno una piccola cosa per apportare un miglioramento all'autoimmagine, per vederti meglio. Ecco, quindi un altro metodo molto importante è quello della meditazione. Imparare a rilassarsi, pensare, concentrarsi sull'area che entra in crescita dei polmoni. Quindi sono tutte situazioni che ci possono portare un vantaggio da un punto di vista dell'autostima. Insomma, perché nel momento in cui ci prendiamo cura di noi stessi, e ci prendiamo cura del nostro corpo, della nostra mente, dei nostri stati mentali, iniziamo a utilizzare parole positive, soprattutto quando viviamo degli stati emozionali, raggiungeremo sicuramente dei risultati molto, molto importanti e la nostra autostima migliorerà davvero in modo sostanziale. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting, quindi più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!